Il comitato per Capocolonna torna a far sentire la propria voce perché i disagi continuano ad aumentare, l'ultimo in ordine di tempo riguardo ai trasporti. Recentemente sono stati tagliati i trasporti urbani e Capocolonna è stata in visita anche di questo problema. Purtroppo gli abitanti non sanno come farvi il ritorno se pigliano la corsa delle 7 del mattino. Sappiamo che in questo momento di difficoltà e di distanziamento sociale tagliare le corse acquisisce ancora di più i problemi dei residenti. Questo è uno dei problemi che si vada a gravare alla situazione più generale di completo abbandono della zona di Capocolonna. Noi siamo purtroppo il risultato finale di un'amministrazione disattenta, vogliamo essere gentili, disattenta verso i problemi di questo piccolo angolo di paradiso. Lo definiamo così, l'ho definito così in più e in più occasioni perché è realmente così. Alle mie spalle, come potete vedere, c'è uno scorcio che è meraviglioso. Qui il sacro e profano si incontrano per dare luogo a una memoria storica che è poi la nostra memoria, la nostra identità, quello che siamo come crotonesi. Purtroppo siamo stanchi, lo ribadiamo sempre, ce lo diciamo tra di noi, lo abbiamo detto a tutti gli interlocutori possibili e immaginabili. Speriamo che in questo momento, dove abbiamo diverse rappresentanti istituzionali che risiedono anche a Roma, possano portare Capocolonna e Crotone nelle loro agende programmatiche. Vogliamo che Capocolonna possa avere un'attenzione maggiore, lo diciamo a tutti gli enti che qui hanno interesse, perché purtroppo in questo momento su Capocolonna ci sono varie istituzioni che dovrebbero dialogare, l'abbiamo scritto in questi anni tantissime volte. Ci appelliamo di nuovo al Comune, alla provincia, al Ministero per i beni culturali, all'Area Marina Protetta, alla Curia, chiunque possa fare interventi sul territorio di Capocolonna che possa in qualche modo intervenire. Noi saremo pronti a dialogare e fare in modo che tutto quello che possa essere di sviluppo noi lo amplificheremo, daremo ancora di più una mano, come facciamo adesso gestendo quelle che sono le aree di fronte alle nostre case. E grazie a noi, se ancora si può arrivare a Capocolonna, perché denunciamo ogni tanto lo stato di completo abbandono. Il parco è chiuso e l'erba è alta, i randaggi continuano a pascolare, poverini, in queste terre incolte. Non c'è la raccolta di rifiuti, manca l'acqua a cadenza, è ancora di più rispetto a quello che ha Crotone. E in questo momento c'è anche la mancanza dei trasporti. Resistiamo, ma fino a quando potremo resistere? Si stava meglio prima, anche perché il degrado è aumentato, ma di tanto, tanto, tanto. Dalla spazzatura alle luci, all'acqua, alla strada, tutto. C'è un degrado proprio, anche perché io gestisco il bar, quindi sono tutti problemi di Capocolonna. Ne ho sentito di cotte e di crudi, perché i turisti vengono a lamentarsi da me, perché non c'è altra via d'uscita. Il parco è chiuso, tutti i parchi d'Italia e i musei sono stati aperti, qua è chiuso e non si sa il perché. Ma non è solo questo il disagio, perché Capocolonna dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Crotone, di tutta la zona. Anche perché noi camminiamo sulla storia, cosa che al nord non hanno, però se hanno una pietra la valorizzano e te la fanno pagare, però la tengono bene. E fanno di tutto per attirare il turismo, qua al contrario, quando vengono fanno di tutto per farla andare via, perché non trovano niente.